Benvenuto al ristorante Tregnago 1908, la cornice perfetta per il tuo giorno speciale. Io sono Daniela e ti porterò alla scoperta del nostro meraviglioso ristorante. Abbiamo a disposizione due grandi saloni accoglienti e di design per piccoli o grandi matrimoni. E che dire del nostro parco, il luogo ideale per celebrare matrimoni all'aria aperta, circondati dalla natura. Da noi potrai celebrare il tuo rito civile, così da poter svolgere sia la cerimonia che il ricevimento nello stesso luogo. Grazie al nostro ristorante interno potrai personalizzare completamente il menù. I nostri cuochi saranno lieti di creare piatti raffinati, con prodotti di alta qualità, abbinati perfettamente alla nostra esclusiva carta vini. Al ristorante Tregnago 1908 avrai la possibilità di ballare e divertirti fino a tarda notte senza restrizioni. Vieni a trovarci e a scoprire di persona la bellezza del nostro ristorante e le nostre proposte personalizzate. Siamo pronti a realizzare ogni desiderio e rendere il tuo matrimonio un evento unico ed indimenticabile.